Se io ero musulmano mi toccava morire subito perché i musulmani adorano Allah e Allah quando uno sbaglia occhio per occhio, dente per dente, li porta subito... ...che tu accetti giù nel tuo cuore, fratello Max, e Dio ti parlerà, e Dio farà un'opera grande nella tua vita. Come faccio a diventare cristiano? Stasera stesso puoi diventare cristiano. Se tu ti metti in ginocchio adesso, se tu ascolti me, guarda, ti metti in ginocchio ovunque tu sei, però non ti metti in ginocchio in mezzo alla strada, va bene? Vai in casa. Consiglio, vuoi conoscere il Signore? Invoca, chiedi una visitazione dall'alto, e il Signore ti risponderà. Ti metti in ginocchio. Dice, Signore, voglio conoscerti. Amén. Ti metti in ginocchio Max, chiudi gli occhi e immagini una luce davanti a te, solo una luce devi immaginare. Quella è la luce di Gesù. Immaginalo e chiedi perdono. Diggielo, Gesù, fai che io possa diventare figlio di Dio, cristiano. Figlio di Dio e fratello tuo, Gesù. Abbracciami, così, diggielo, con gli occhi chiusi. E se ti viene voglia di piangere, piangi Max, piangi. E se ti viene voglia di piangere, vuol dire che ti stai convertendo a Gesù. Ed è semplicissimo. Fallo, Max, fallo. No, non serve che ti devi battezzare. Quando uno si battezza il battesimo viene dopo. Il battesimo viene dopo. All'inizio serve solo che tu chiedi, Signore, visitami, parlami, fatti conoscere da me, in ginocchio. Chiudi i tuoi occhi e chiedi, Signore Gesù, voglio conoscerti. Fallo, Max. Perché hai creduto per fede. Fallo e vedi che il Signore ti risponderà in questo momento, nell'istante, nel nome di Gesù. Io lo dichiaro e lo proclamo. Che tu sei una nuova creatura. Perché con la tua bocca stai accettando. Mi sto accortando a te. Stai accettando la parola della fede in Lui. E stai accettando il suo sacrificio sulla croce. È gloria a Dio per questo. Allora. Chiedi una visitazione del Signore, chiudi i tuoi occhi e dici, Signore, voglio conoscerti. Voglio fare un'esperienza con te. Parlami. Aspetta, Salvatore. Aspetta, Nat. Allora, Max, ascoltami. e non essere confuso. Non essere confuso. Guarda, quando uno fa una professione di fede, come ti sto dicendo io e fratello Salvatore Ciotola, tu hai creduto a Gesù dopo. Gesù è entrato dentro il tuo cuore e tu sei diventato figlio di Dio e fratello di Gesù. il battesimo è solo per dare dimostrazione a questa umanità che c'è qua. Solo per fargli capire che tu sei diventato figlio di Dio. È come quando uno si va a sposare al comune e se non si sposa nella chiesa non c'è valore. Hai capito? Mi capisci? Allora, il valore... Il battesimo è un atto. Il battesimo è un atto d'amore in Gesù Cristo. È una testimonianza che tu sei... 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 una nuova nascita. È solo una rappresentazione il battesimo. Se tu sei un cristiano e sei un figlio di Dio, salvato per grazia. Se tu diventi cristiano non andrai all'inferno. Se tu continuerai ad amare Gesù e fare le cose che c'è nella Bibbia. E neanche Allah ti può prendere. Neanche Allah ti può rapire dalle mani di Gesù. Quando tu sei diventato figlio di Dio, tu sarai... Lo vedi? Ti faccio un esempio. Max, esempio, tu sei questo. Esempio, eh? Tu sei questo foglio. E Dio è questo. La parola. Guarda. Dio ti prende quando tu accetti Lui, ti prende e ti mette qua, dentro. E chiude la Bibbia. Guarda. Tu sei qua dentro. Allah non ti può più rapire di qua dentro. Ti ho fatto un esempio che lo capirà il tuo cervello. Il tuo cervello insieme al tuo Spirito Santo che è qui alla radice del naso ha capito già. Tu sei qua dentro. Guarda. Non cade. Guarda. Neanche se ha sbetticcio tutta. Guarda. Sto sbetticciando tutta la Bibbia. Non cade. Non cade. Sei protetto dalle mani di Dio. Amen. Allah Angelo. Già che Lui lo sta proclamando Allora, non te la pesce più. Sta iniziando a fare un'opera. Siamo adesso a Gesù. Anche se il Signore sta facendo un'opera. Nel tuo cuore ha messo l'amore. Ha messo l'apertura di cuore. Ti ha messo l'amore. Già che tu stai dicendo voglio diventare un cristiano che il Signore ti sta guidando. Ora chiedi un'esperienza soprannaturale. Prego. Chiudi i tuoi occhi. Mettiti in ginocchio. Dici, Signore, voglio conoscerti. Voglio conoscerti. Amén. Visitami. Parla alla mia vita. E Gesù lo farà. Maxi dice Ma io Per dire le parole Lui dice Io sono il fedele. Anche se tua madre e tuo padre ti lasciano Io non ti lascio già mai. Allora, ascoltami. Maxi dice Ma io non capisco perché ci sono diverse edizioni della Bibbia. Ma no, no che sono diverse. Sono le traduzioni che sono più moderne. Mano a mano che vanno rimodernizzando usano delle parole più concrete. Ma il risultato è sempre uguale. Hai capito? Il risultato è sempre quello. La parola è messa più moderna. Ogni dieci anni fanno una nuova evoluzione della Bibbia. Di traduzione. E siccome c'è l'antichità le parole sono sinonime sono dialettatiche. Nuovo e vecchio e nuovo. E allora tra il vecchio e tra il nuovo c'è un'altra traduzione più idonea. Ma siccome tu hai un'altra lingua o la semplificano o la lasciano scritto come è scritto dal greco come è scritto nei testi originali. Ma tu ma tu Max tu devi guardare solo un tipo di traduzione. Non ne devi guardare dieci traduzioni. Solo una ne devi guardare. Se no vai in confusione. Capito? Allora spero che Dio mi aiuti. Fa bene. allora tu se tu prendi questa Bibbia e della Dio Dati c'è una traduzione. Se ne prendi un'altra c'è un'altra traduzione. A te non ti interessa hai capito? Ti interessa guardare solo una traduzione. E fatti guidare dalla parola. E ti fai guidare da una. Non prendere tante Bibbie perché poi vai in confusione. Tu solo una ne devi leggere. Quando tu hai letto solo una lo Spirito Santo ti rapisce come mi ha rapito a me poco fa. Io mentre leggevo io non c'ero qui. Io leggevo e non c'ero qua. Io io non c'ero qua. Leggevo ed ero rapito. Parlavo automaticamente che certe volte mi ingerpavo. Capite? Ora tu quando leggi tu quando leggi mano a mano che leggi un versetto devi chiedere a Dio. Mac fratello Mac senti quando leggi chiedi spiegazione chiedi rivelazione a Dio fatti guidare dalla parola e ogni versetto che tu leggi dice signore rivelami quello che tu mi hai parlato. Bravo Mac. E lui parlerà nello Spirito parlerà in Spirito e in Verità. Ok Mac se poi fai così scriviti il mio nome Angelo Picone te lo scrivo qua non vorrei che magari capissi male te lo scrivo qua nel tuo nome allora cerca Angelo Picone ecco devi cercare Angelo Picone il mio nome in Youtube scrivelo in Youtube e ci sono tanti profili miei mi vedi in tante foto però devi cliccare solo quella che sono con mia moglie che io posso inserire i video solo lì perché tempo non ce n'ho siccome profili ce n'ho migliaia e allora metto solo in quel profilo dove sono io e mia moglie hai capito clicca là e trovi tutti i video e ti lasci guidare dallo Spirito va bene bene adesso io voglio dare il benvenuto a tutti e faccio la preghiera faccio la preghiera fratello faccio la preghiera perché poi quando dobbiamo smettere mi trovo la preghiera fatta e poi continuiamo va bene allora Padre Santo ti prego di benedire la sorella Margherita Carducci Signore per tutti i suoi problemi che ha Signore e anche suo marito e i suoi figli Signore e ancora benedice ancora la sorella Margherita Sagnebene Signore e il suo compagno e ancora i suoi figli Signore e i figli del suo compagno Signore ti prego per Barbara Signorelli benedicela benedice suo marito Alfio la sua figlia Salvina ancora l'altra Barbaruccia l'altra figlia e i suoi nipoti Simone e l'altro nipotino Signore e quando ce ne sono Signore benedicelo tutti Signore ancora ti voglio pregare perché pocchia benedicelo Signore benedicelo e benedicelo ancora la sua vita la sua casa e la sua famiglia Padre benedicelo ancora Mario fratello Mario in tutto e per tutto Signore e tutta la sua famiglia benedicelo ancora Samantha Rossi Signore fai che Samantha possa diventare la donna più ricca del mondo Signore aiutala nei sentimenti nella vita sociale e anche sentimentale Signore ancora benedici Anna Pilo Signore benedicela nel suo viso nella sua personalità e la sua famiglia Signore ancora benedici fratello Frank Signore benedici ancora Valentina sua moglie benedici ancora sua suocera Signore benedici ancora tutti quelli che lui nella sua famiglia che sta lavorando Signore ancora benedici la sorella che cacatone Signore benedici la Signore che possa trovare pace e tranquillità e serenità Signore ancora benedici fratello Giuseppe Campolo Signore nella sua vita nella sua casa nel lavoro e su ogni cosa Signore ancora benedici fratello Luigi Teresa questo giovane Signore che non è più venuto qui con noi Signore trasportalo di nuovo qua Signore faglio capire che si è attralasciato l'acqua della vita Signore grazie Padre ancora benedici Graziella Cassola Signore benedici la faglia delle coccole Signore che possa trovare la pace e la gioia e la tua misericordia Signore preghiamo ancora Signore per Gerusalemme che possa essere sempre a primo posto Signore e sarà aiutata da tutti i popoli Signore e sostenuta Signore ancora preghiamo per tutti quelli che sono in gomma Signore che possono essere liberati Signore ti prego Signore ancora benedici ancora tutti i malati in tutto il mondo Signore Barbara chiudolo il microfono Gioia chiudolo Gioia si giusto che finisco di pregare poi lo apri tranquillo padre ti prego di benedire Signore tutti i malati del mondo Signore ancora ti prego Signore per tutti i divorziati Signore benedici Signore che possono fare la pace e che possono essere riuniti in tutto e per tutto Signore ti vogliamo pregare per tutti gli orfani Signore che possono trovare una famiglia che le adotti Signore che possono vivere nella felicità Signore e ancora ti vogliamo pregare per tutti i carcerati Signore che possono trovare pace e che possono ritornare indietro nel tempo dove hanno commesso quello che hanno fatto Signore e che possono chiedere perdono a Te Padre che possono essere liberi da ogni problema da ogni infamità Signore grazie Padre e che possono vivere anche che sono dietro le sbarre come se fossero liberi con la mente e con lo spirito Signore ancora ti preghiamo per l'opera Tua Signore che possa essere ristabilita in questo mondo Signore ti preghiamo Padre ancora per Laura Ottanta Signore per lei per sua figlia e per tutta la sua famiglia ancora ti preghiamo per Fabio Signore benedicelo questo giovane Signore ancora ti preghiamo per Davide uno e per Davide punisce Signore e per Davide grande Signore ti vogliamo pregare ancora per Roberto e ancora Padre benedicelo Roberto guariscelo e aiutalo e sostienalo ti prego ancora per Pietro Rosaraia benedicelo sia lui che i suoi figli e ancora i suoi nipoti Signore ti vogliamo pregare per Valerio Albanese due in ogni cosa Signore che possa essere ristabilito Signore ti vogliamo pregare per Luanda 659 e Scatone Signore che possa essere benedetto anche da Te Signore ti preghiamo ancora per Dio Amico Immacolata Signore benedicela aiutala sostienala e portala avanti Signore ti vogliamo pregare perché Capocchia sì Signore benedicela grandemente Signore che Capocchia Signore grazie ancora per Claudio Basso benedicelo Signore che possa essere benedetto da Te Signore e ancora te Padre ti vogliamo pregare per il fratello Salvatore Forcia Signore che possa essere benedetto da Te Signore che possa trovare ancora più refrigerio Signore sì Signore che possa essere come testimonianza vivente per tutte le nazioni Signore ungilo dall'alto Signore e benedicelo Signore e ancora benedice ancora tutto il mondo intero Signore ti preghiamo ancora per tutti quelli che sono nel bisogno Signore che stasera sentono un grande bisogno di farla finita con Satana e con i Suoi marchigegni Signore grazie Padre e ancora per ultimo benedice me Padre che possa fare ancora di più Signore per l'opera Tua Signore ti voglio pregare per mia moglie benedice mia moglie i miei figli Signore mio genero mio amore i miei nipotini i miei fratelli spirito e in carne Signore le mie sorelle spirito e in carne Signore grazie Padre nel nome santo del tuo figliolo Gesù che tu l'hai benedetto in eterno Amen Gloria a Dio Bene cari fratelli e sorelle adesso tutto il tempo che abbiamo lo abbiamo libero un saluto a Checca Pocchia ho pregato anche per te spero che l'hai sentito che il Signore ti abbia benedetta ragazzi io devo andare dice buonasera Max buonasera Max Dio ti benedica pace del Signore ti voglio bene bene adesso apriamo la Laura la live con la gioia del Signore allora ci siete fratelli e sorelle Cadren 1969 benedizione del Signore dice benedicimi Signore Signore benedici anche il fratello Cadren che possa essere benedetto da te in ogni cosa Padre sostienelo stasera Signore come non mai lui abbia essere stato benedetto come adesso mai Signore colmalo Signore di benedizione eterna Signore a lui la sua casa e tutti quelli che sono vicino la sua casa che possa Cadren essere illustre quando la luce Signore grazie Padre che tu benedirai Cadren in tutto e per tutto ti ringrazio Padre nel nome Santo del tuo figliolo Gesù che tu lo hai benedetto in eterno Amen Gloria a Dio Alleluia Bene cari fratelli fratello salvatore ci sei ci sei sono qua siamo qua allora vuoi dire qualcosa a merito di questa live e dei fratelli sorelle vuoi fare qualche preghiera sentite libero ho visto ho visto che il Signore con questo fratello Max che sta accettando il Signore sta facendo un'opera grandiosa Gloria a Dio nei prossimi giorni avremo conferma che il Signore ha operato ha operato grandemente questo fratello assigurirà la parola mangerà la parola e crescerà Amen amén Gloria a Dio questo è un frutto che ci fa vedere il Signore che dobbiamo essere uniti e pregare perché ci sono tante anime che si devono salvare Amén prima del suo ritorno e io aggiungo qualcos'altro per tutti cari nella grazia divina guardate in questo momento c'è lo Spirito Santo dentro la live dove c'è Salvatore e anche qui dove c'è Angelo Picone con il vestito chiaro dove c'è la sorella Barbara c'è lo Spirito Santo che entra e vede con la luce cari nella grazia lui è qui Angelo c'è una grande benedizione lui è qui lui è qui che guarda voi non dovete fare altro che inginocchiarvi e dire signore noi ci accorgiamo che tu sei qui benedicici diteglielo benedicici e sentitevi benedetti da Dio in persona sentitevi benedetti da Dio in persona questo dovete fare Roberto dice a tua discolpa che cosa però a tua discolpa non si può scrivere più di tre parole ma tu ne hai scritto due in una vocale ancora ci potete mettere qualcosa cos'altro la tua discolpa che cosa scrive loro allora dove è la Cataluna l'amore mio dove sei Cataluna non mi dite che te ne sei andata c'è Anna Pilo ciao Anna Pilo ti voglio bene Gilvan Silvan dove sei Angelo stasera il signore vuole fare il miracolo che ne ha dato una dimostrazione che c'è la potenza di unzione questa sera venite di qua sorelle andranno per essere benedetti mi saranno poccate tante persone perché c'è una unzione particolare allora Roberto passa di qua dove c'è la sorella Barbara che si senta sola Salvatore ce la fai a passare nel profilo dove c'è Angelo Piccone con il vestito chiaro ce la fai Roberto vieni di qua che c'è la sorella Barbara si sta sentendo sola così ci facciamo aprire il microfono sorella Barbara apri il microfono allora sorella Barbara raccontami in questi giorni che c'è che non va no tutto bene tutto bene tutto bene e gloria a Dio e e Alfio che dice Alfio che dice Alfio lo stesso io lo stesso non muore camminare o cammina ci va il gabinetto da solo solo no no solo no sono dietro io però non lo spingi tu solo lo guidi no solo lo guidi no 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 e ci vado vicino però lo porto fino fino al bagno e poi lo ritornano e sedia comunque non lo prendi di peso no lui cammina ciao 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 benedizioni si Gesù aspetta Gesù che venga per il pizzo va bene va bene passate qua anche che non puoi salire sei qui vicino a tutti non essere triste allora il signore ha visto le due lacrime in questi giorni ma tu come lo sai sono triste si sente nella voce si sente nella voce ma che signore mi guarda non lo sai ma questi giorni hai pianto e hai messo delle cose davanti a Dio e anche la guarigione di altri a posti è un po' durezza di testa a posti è un po' durezza di testa il signore me lo dice si si la verità lo so lo sto guardando lo sto vedendo adesso da te parlando buonasera demica immacolata Dio ti benedica lascia dire il signore Gesù lo ama lo so lo so Gesù lo ama lo ama anche io lo amo con tutto il mio cuore Gesù per la sua grazia e per la sua misericordia io sarò guarito completamente io sono sua figlia la figlia di Gesù ma io Gesù solo io sono saudendo per le tue lacrime le tue lacrime sono arrivate al trono di Dio Roberto dice Alfio un desiderio Alfio sta dormendo ah dorma e che fa prima fa un monello e poi dorma ma prima fai un monello fa fai il monello prima che capocchia viene nel profilo dove sono con il vestito che ci siamo tutti insieme che dove sono con il vestito Angelo Picone dove sono con il vestito una donna che lo so io me l'ha rivelata una donna di pete è d'amore ho tanta fena Gesù ho tanta fena Gesù ma noi vogliono sempre a volte penso ma Gesù una gente è di un cuore guarda che ti ha salutato Anna Pilo facciamoci benvenuto a che capocchia ciao che capocchia Dio ti benedica allora vogliamo pregare per Barbara fratello Salvatore fai una bella preghiera di liberazione Angelo chiedo preghiamo per la sorella Barbara che il Signore la riasserà sì dai Angelo venga a tenere nome di tu per la sorella Barbara Signore Signore metti gioia quella che è stata rubata Signore nel cuore metti molta gioia Signore riassala Signore dagli nuove forze Signore una fresca unzione Signore rallegra rallegra il suo cuore Signore guarisci altri Signore modellalo Signore uniscili con condami d'amore morti questa famiglia Signore benedetta non le tue mani anche i figli del Barbara di questa mia bella sorella Signore amén metti amore e gioia il cuore dei figli amén e fa tornare i figli e i padri e i padri e i figli amén in nome di Gesù amén e ti dici la grande mente pianto Signore Padre Santo Dio d'amore nell'amore santo del tuo figli vogliamo venire a te Signore per la sorella Barbara Signore benedicela benedicela Signore grazie Padre nel nome santo del tuo figli Gesù benedici ancora suo marito e i suoi figli Signore benedici ancora i suoi nipoti Signore tutti quanti Signore ti ringrazio Padre ti ringrazio Padre nel nome santo del tuo figli Gesù che tu l'hai benedetto in eterno amén gloria a Dio Signore benedici tutta la life Signore anche Capocchia Signore Anna Pilo e ancora benedici la sorella Samantha Rossi Signore benedici ancora Cadren benedici fratello Ciotola Salvatore benedici ancora di nuovo Barbara Signorella fai che possa essere allegra stasera che possa gioire in te Cristo Gesù Signore e ancora benedici la sorella di Mico Immacolata Signore in ogni cosa Signore ancora benedici tutti quanti Signora Francesco Cipriano Signore benedicelo Signore e ancora benedici Cadren 89 Signore ancora quanti sono in questa life Signore benedici tutti quanti Signore grazie Padre ancora per Gattaluna Signore benedicelo Signore gloria a te Signore e ancora Padre quanti sono che stanno salendo Signore per tutti Signore uno per uno Signore stringeli tutti Signore che possono essere sempre davanti al tuo cospetto Signore alleluia Signore gloria alleluia Signore grazie Padre alleluia Signore gloria gloria a te Signore alleluia amén amén gloria a Dio bene Barbara come ti senti in questo momento che abbiamo pregato sorella Barbara ti sei rallegrato un pochettino non dormi la notte non dormi la notte perché ci sono ancora trauma psicologici in te cos'è che pensi dimmi ma non dormi perché hai pensieri sulla mente ti giri di qua e ti giri di là ti giri tutti e due lati e non dormi c'è qualche c'è qualche pezzo c'è qualche pensiero che ti assalla eh c'è qualche pensiero che ti assalla ma qual è identificalo identificalo questo pensiero che cos'è che ti preoccupa io non ho capito non ho capito ma non ti preoccupare ma non ti preoccupare quando puoi l'amante non ti preoccupare che devi pensare sempre quello quando puoi mandare l'amante tu devi dormire la notte hai capito non devi fare questo quando puoi mandare l'amante allora tu devi dormire lascia questo pensiero dormi tranquillo hai capito allora adesso adesso fai questo qua chiudi gli occhi chiudi gli occhi chiudi gli occhi quando hai chiuso gli occhi chiudi gli occhi quando chiudi gli occhi comincia a respirare profondamente respira profondamente respira profondo e butti l'aria alla bocca e butti tutto ai piedi di Gesù tutto tutto ai piedi di Gesù buttalo bravo ai piedi di Gesù tutto 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 quello che stai pensando buttalo ai piedi di Gesù tutto tutto piedi di Gesù tutto tutto buttalo ai piedi di Gesù ogni peso padre metto davanti il pombo davanti a te domani voglio stare bene prendi la tua mano di guarigione su di me la tua mano di guarigione su di me ma come sta a poterlo non posso stare con me senti gioia e pace nel mio cuore e una pace nel mio cuore signore una pace con una tua figlia questo pensiero non mi appartiene fuori del nome di Gesù questo pensiero non appartiene Gesù purifiglia completamente dalla testa ai piedi signore la testa ai piedi una purifica la testa ai piedi compresa ricevi una purificazione nel nome di Gesù purificazione ma anche la morte di Gesù mentre sei con gli occhi chiusi senti gioia e amore questa sera madre si mentre sei con gli occhi chiusi barbara cerca di intravedere qualcosa che entra dalla finestra guarda che cos'è vedi una cosa che sta entrando dalla finestra che cos'è uccello aquila che cos'è quando la vedi quando la vedi quando la vedi ci dirà un'altra di Gesù di te in questo momento nel nome di Gesù una luce forte la vedi il padre 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 la barba il padre il padre e piangi piangi e diglielo fammi dimenticare tutto quello che in questo momento non mi fa dormire fai che io adesso sia allegra e cominci a cantare che canti fammi dimenticare tutto quello che io ho questo momento fammi dimenticare il tutto padre così Tutto. Tutto. Diggi, diggi. Le mani fai. Fammi rilevare. Sono un capitolo. Bagici in piedi. Bagici in piedi a questa luce. No. Mi sento, padre. Non mi sento. Non mi sento, padre. Sento un'attualità. Guarda la luce, la luce. C'è il nome di Gesù. E allora. E allora che la pappa. Cosa sta facendo? Cosa sta facendo Gesù? Cosa sta facendo? Dicino, grazie a me. Abbracciono, abbracciono, padre. Abbracciono, abbracciono. 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 Tutti questi pesi che non mi fanno dormire, non mi appartengono. Io li dipombo davanti. Buzzle. E' la tua vita. Buzzle, ai piedi di Gesù. Tutta la lette piede, papà. Tutta la lette piede, abbracciono. Stamante, domani sono bene. Un po' bene. Un po' bene. Perché mi hai pulificato. Mi hai liberato, signore. Amè. Perché io sono scorta. Tu mi hai invito, papà. Grazie, padre. No, rientro, no, signora. No, rientro, no. Al santo, no. Al santo, no, signora. Faccio una preghiera. Faccio una preghiera. Faccio una preghiera al signore. Canta una preghiera. Non trovo. Canta una preghiera. Acha. Abbracciami, Gesù. Ogni corpo e te sapete, in questo mondo di rinverizzate. Cosa valmi sono tu. Ma questo piaccio che ho nel cuore, no, posso scioglierlo solo tu. Abbracciati Gesù, io non ti lascerò mai più Ma è nella vita della tua vita Ma questo vento so che è così forte Che adesso ci sei tu Abbracciati Gesù, io non ti lascerò mai più Abbracciati Gesù, io non ti lascerò mai più Amén Quanto tempo? Poi, come è la tua paglia? Viene, mi sono, chi va? Viene, va, che vuole? Viene, va, che vuole? Viene, va, dire, va, proprio, ma, padre. Viene, va, che vuole? Viene, va, che vuole? Viene, va, che vuole? amén amén Barbara apri i occhi ascolta Barbara ascolta dice signore tu te mi aprite io assurerò le tue labbra metterò la gioia nel tuo cuore io sono l'eterno degli esempi sono il Dio fedele io sono il capo d'orgo fedele tra fedele amén io assurerò le tue labbra dice signore perché tu sei mia sei mia figlia e tu sei il mio amore via la tristezza in questi giorni che si sono abbattuti su di te io metto il cuore che mi alzo nel nome di Gesù è mia la tristezza e viene l'alleluia amén mangi il cuore e se c'è chi non pensi che male la risposta va retro satana diglielo va retro satana 나타�ana paragrafges mandala io rifiuto ogni cosa che mi da fastidio mi tormento io la rifiuto la mando l'inverso via e che sacana rifiuto ogni cosa che mi tormenta nel nome di Gesù rifiuto ogni cosa che mi tormenta io la vado vai Sat no, mandala via non mi fai chiedi io sono una mia di Dio vattene l'inferno, bacio per pace bacio con mio Gesù amè rifiuto ogni cosa che ti tormento via via, rifiuto ogni cosa che ti tormento via Sat scaccio questa sera in pace dormirò in pace mi corrigerò questa sera in pace dormirò in pace mi corrigerò in nome di Gesù in nome di Gesù amè apri gli occhi apri gli occhi e asciugati le lacrime e poi canta una canzone allegra la devi cantare perché adesso tutto è passato va bene adesso sei felice quella che vuoi cantare è tu quella che canti sempre guarda la ragazza a lei non può essere margiare non mi posso mai sempre tra la gente deve stare solo non può riuscire più allegra più allegra più allegra più allegra più allegra sorella dai che stai guarendo dai allegra allegra grazie a lei non può essere non può essere ma solo non vuoi uscire mai con me brava brava batteteci le mani scriveteci brava brava così brava dai barbara asciugati gli occhi e respira profondamente e canta ancora più allegra più allegra non ti provare anche che